Ciao a tutti! Lui è lui! E lei è Sofì! E insieme siamo in Me Contro Te! Siamo qui con la nostra Martina e col nostro Thomas sul set del Disney Challenge Show! Come potete vedere abbiamo dei nuovi capelli super cool e alla moda! Oh oh! Oh oh! Ok lo sistemo! Sono ingegnero spazio? Sì 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 certo! Questi meravigliosi capellini ci serviranno per andare a fare una sfida in puntata super super divertente! Ma ovviamente come siamo dei challenger vogliamo prima di tutto provarli noi! Quindi con loro aiuto ci sfideremo e chi riuscirà a raccogliere più palline a volo con questi capelli vincerà la sfida! Ci siete? Sì! Sì! Vai! Oh oh! E' veramente molto difficile! Ma ne ho prese? Non lo so! Martina aiutami dimmi come sta andando? No niente! Niente? No! Ti prende per prima una pallina? Ho vinto! Io non vedo dov'è il canestro! Oh! Ne ho presa una davvero? Sì! No! Adesso due amo! Ok vai continua! Ok? Sta perfetto! Niente nel tempo! Aiuto! Ah! Sì! Stop! Stop! Andiamole a contare! Venite pure ragazzi! Chissà chi ha vinto! Io qui ho la bellezza di tre palline! E io ne ho due! Ok! Vabbè comunque è ancora tutto da decidere! Siete curiosi di sapere chi vincerà in puntata? Scopritelo guardando Disney Channel e il Disney Challenge Show! A dopo! Ciao! Me contro te! Disney Challenge Show!